Bentornati, bentornati sul canale, buon mercoledì a tutti. Siamo arrivati, siamo arrivati finalmente al termine della sosta per le nazionali e purtroppo, devareva, c'è da registrare un infortunio proprio al fotofinish, proprio nell'ultimissimi minuti di queste partite, insomma, arriva un infortunio a registrare, quello di Piotr Cielinski, ma ci arriveremo, ci arriveremo. Ieri giornata in cui sono scesi in campo l'Iran di Taremi, vittorioso, Taremi non ha segnato, ma ha ben giocato, ha brillato Asmun, peraltro, ex giallorosso, Roma, che sarà la prossima per se l'Inter domenica sera, vi ricordo, lo stadio olimpico. Poi ha giocato appunto Cielinski con la Polonia, 3-3 contro la Croazia, in gol Cielinski prima del problema muscolare. E infine ha giocato e stravinto l'Argentina contro la Bolivia al Monumental di Buenos Aires, in gol Lautaro Martinez, quindi caterve di gol dei razzurri con le rispettive nazionali. e assist, gol, ottime prestazioni, proprio alla fine, arrivato sul finale di questo percorso di circa due settimane, è arrivato l'infortunio di Cielinski. Ma partiamo da Lautaro, in ordine cronologico, l'ultima partita che si è giocata, 6-0. 6-0 l'Argentina sulla Bolivia, al diciannovesimo Messi su assist di Lautaro, è andato in maniera feroce a recuperare una palla in pressing, poi grande azione di Messi, lanciato da Julian Alvarez e a tu per tu col portiere cede un cadò, solo da scartare per Lautaro che va in gol, 2-0. E poi ancora nel recupero del primo tempo, terzo gol dell'Argentina con Julian Alvarez, ancora assist di Messi. al 69esimo 4-0 di Tiago Almada, all'84esimo e all'86esimo ancora Messi e Messi su assist prima di Palacios, non quello nell'azzurro chiaramente, Ezequiel, e poi di Nico Paz del Como, che era entrato qualche minuto prima a provare il posto di Lautaro. Cosa ha detto Lautaro al termine della partita? Andrò alla prima azione rispetto al pallone d'oro, chiaramente, con mia moglie, con la speranza di sempre. Dico sempre che il collettivo è al di sopra del 5, ma penso che la scorsa stagione sia stata spettacolare e l'ho finita, spettacolare con l'Inter, l'ho finita con lo scudetto e 5 coli in Coppa America o la nazionale. Analizzando il tutto, penso di esserci. Non voglio dire che me lo merito, ma sono felice e ci spero. Vedremo cosa succederà quella sera. E Messi, dopo Scaloni, è dello stesso avviso. Ha detto che ha avuto un'annata spettacolare Lautaro, ha fatto gol in finale di Coppa America, chiaramente è stato il capocannoniere del torneo, merita il pallone d'oro più di ogni altro. E poi volevo segnalare anche una bella parentesi di Messi che ha voluto dedicare un pensiero anche allo sfortunato Valentin Carboni, lo sappiamo si è fatto male al ginocchio, quindi ne avrà per diversi mesi. E dice che Carboni stava crescendo e si è fatto male pochi giorni fa. Ha avuto una brutta lesione al ginocchio, gli mandiamo un grandissimo abbraccio da parte, appunto, gli mando un grandissimo abbraccio da parte di tutta la squadra. Quindi non si dimentica, non si dimentica affatto. Il povero, insomma, sembra brutto, è deceduto. Un infortunio muscolare, un infortunio ha un'articolazione, un infortunio muscolare fa parte del mestiere, tornerà più forte di prima Carboni. Per quanto riguarda invece Piotr Gelisky, grande peccato, grande peccato. Era andato ancora in gol, dopo quello segnalo al Portogallo, è andato ancora in gol, proprio in apertura di Polonia-Croazia, poi la Croazia va rimontato fino ad arrivare al 3-1, poi il 3-3 finale anche con Rosso-Livakovic per i croati. problema per quanto riguarda Gelisky, che nel finale di match, passata anche la metà del secondo tempo, è dovuto uscire per un problema muscolare. Un problema muscolare accusato alla coscia destra, sembra si tratti appunto di un problemino ai flessori della coscia destra. da non confondere con l'infortunio patito ad agosto, ai primi di agosto, gli fece saltare le primissime uscite, prima le ultime amichevoli, poi le primissime uscite stagionali, perché Gelisky a Pisa, a Pisa si fece male al retto femorale della coscia sinistra, adesso si tratta della coscia destra, quindi non è la stessa zona. È uscito dolorante, comunque senza bisogno di barella o altro, toccandosi appunto la coscia ieri, e lo stesso Gelisky al termine della partita ha detto spero che non sia nulla di grave, di poter essere subito a disposizione, sentiamo un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione. Mi ricordo che Gelisky tornerà domani, sarebbe di tornare da programma, domani ad allenarsi con tutto il resto del gruppo, il gruppo che si ritrova oggi a piano gentile, con tutti i nazionali, ad eccezione appunto di Gelisky, Taremi e Lautaro, che dovrebbero essere reintegrati domani. Vedremo se sarà anche il caso del polacco, che dopo l'iniziale sbigottimento, a quanto pare la cosa è un po' rientrata, potrebbe chissà trattarsi solo di un affaticamento, di una minima situazione. Peraltro di Gelisky ha parlato anche Michal Probierz, l'allenatore della nazionale polacca, al termine del match, ha detto ci ha servito molto durante la partita, è un infortunio piuttosto lieve, ma non c'era motivo di rischiare, quindi l'ho sostituito. Io, francamente, ieri ero a giocare, ho cercato video di quel momento, lì non l'ho trovato, ci sono solo highlights, a livello ufficiale, poi a livello non ufficiale non lo so, perché altrimenti avrei una partita che non mi vedo, perché sto a giocare, peraltro ho fatto due, due vappini ho fatto, due vappini, non lo so, non saprei che dire, vanno in giro solo dei fermi immagini, con lui che fa un po' di smorfi, ma non lo so, non l'ho visto, quindi non posso essere d'aiuto. Si tratta solo di aspettare, è chiaro che non ci voleva, perché erano Gelisky finalmente tornati in buona condizione, in fiducia, anche dopo i gol, dopo le buone performance con i Nerazzurri, è già il secondo stop, sarebbe, utilizziamo il condizionale, sarebbe già il secondo stop dopo quello di agosto, insomma, in due mesi e mezzo, due intoppi, non è il massimo. Purtroppo Gelisky è uno che nel corso della sua carriera è andato spesso incontro a piccoli acciacchi, niente di particolarmente gravi, ma piccoli rallentamenti, ci sono dei fisici purtroppo così, io pure, gente che conosco, con cui gioco, c'è chi non si fa male mai, nemmeno scalando il Monte Salviano, vabbè, il Monte Salviano è un'escazione, diciamo, il Gran Sasso, per rimanere sempre dalle mie parti, e chi invece starnutisce e se stira. Purtroppo è così, aspettiamo, aspettiamo, non resta che aspettare, non so se gli esami, perché a questo punto magari nella migliore delle ipotesi si possono anche evitare, io credo che li faranno, e se posso dirvi la mia, per quelle poche informazioni che abbiamo, secondo me, con la Roma, non ci sarà, e vedremo se sarà recuperabile per lo Young Boys o soprattutto per la Juventus, però è chiaro che questo è il momento clou, perché come ha detto anche Fabio Capello, questa settimana è la parte, il pezzo più difficile di stagione, della prima parte di stagione, proprio questa settimana qui, per chi ha le coppe, soprattutto perché è la Champions, diciamoci la vedete, e ne manca uno, recuperi, certo, recuperi Barella, che però non è al top, Buchanan, vediamo se sarà convocato, l'Inter, i giocatori ce li ha, per carità ce li ha, può anche adattare, volendo, o Ciala o Aslani, proprio all'emergenza, volendo pure Darmian, però Gelischi l'hai preso, perché ti serve in questi momenti, no, vai a Manchester col City, gioca a lui, fa un partitone, se ti manca in questi momenti, te scazzi, eh, te scazzi, un saluto.